A me questo è un nido, proprio un nido di calabroni, su questo albero qua che sicuramente non fanno bene alle ape e ce ne sono anche tantissimi Così qua bisogna intervenire, fare qualcosa perché sicuramente sono molto dannosi questi calabroni qua Questo è l'albero, i calabroni, questo qua e lì ci sono le nostre ape Grazie